L'Aquila Calcio vince e convince, battendo per 4-1 il campo basso e ottenendo il quinto posto in classifica in coabitazione con il San Marino, nell'ultima posizione utile della lista per disputare i play-off. Una partita impeccabile per l'Aquila, con un'unica nota stonata, l'infortunio di Boldrini, costretto a uscire dal campo al quindicesimo del primo tempo. Si spera che per l'attaccante rosso-blu non si tratti di uno stiramento e che possa essere disponibile per domenica 8 marzo, quando l'Aquila ospiterà la capolista Matelica. L'Aquila va all'obiettivo già nei primi minuti. In casacca bianca, dato che il campo basso veste i colori rosso-blu, si porta in vantaggio sugli sviluppi del primo calcio d'angolo, conquistato al terzo minuto. La difesa molisana interviene maldestramente e ne approfitta De Iulis per insaccare l'estremo difensore Riccio ed è 1-0. Il raddoppio Aquilano arriva alla mezz'ora, ancora per difetto di difesa. Approfittando del malinteso tra Riccio e il difensore Capozzi, padroneggia la sfera Ibe che deve solo appoggiare nella porta rimasta sguarnita. La terza rete dei ragazzi di Minster Battistini arriva al 36esimo, sul rigore calciato da De Iulis, che così firma la sua doppietta. Il penalty è stato concesso dall'arbitro per fallo di mano di Marzano mentre era in barriera. Nella ripresa il campo basso si fa più minaccioso e riesce ad accorciare le distanze al 25esimo, con la rete di Gomez, che di testa sfrutta al meglio un calcio d'angolo battuto da Gerardi. Ma l'Aquila non sta a guardare e realizza il poker di reti, al 40esimo, con Di Paolo, che serve un delizioso assist a Sieno, che trafigge il Riccio sul secondo palo.